Salve a tutti ragazzi, purtroppo bruto il mio pesce è malato di una malattia che si chiama idropisia e che non curata porta a morte certa. Sì, lo so, storia molto triste. Però, per fortuna, ho trovato una soluzione. Lo curerò con un antibiotico, si chiama tetraciclina e agisce su più organi. L'ho messo in dell'olio e ando a formare una specie di fettina panata in cui il mangime è impastato con l'antibiotico. Ok, dopo aver mischiato avremmo ottenuto il nostro prodotto, ovvero il mangime inzuppato nell'antibiotico e saremo pronti a darlo al nostro pesce. All'inizio bruto non voleva prenderlo, ma alla fine con un po' di aiuto e anche tramite le pinzette sono riuscito a guidarlo ed è riuscito a mangiare tutto. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi per rimanere aggiornati. Ti auguro a tutti una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video.